Mosca pronta a negoziati con Kiev e Ankara sulla questione del grano ucraino. Lo ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov, a margine del vertice ministeriale degli esteri del G20, in corso a Bali, in Indonesia. Lavrov ha però puntualizzato che il grano bloccato nei porti ucraini rappresenta l'1% della produzione mondiale, quindi non avrebbe un impatto reale sulla sicurezza alimentare. Intanto il premier russo Putin acchiarisce, la guerra in Ucraina è appena cominciata, tornando poi a minacciare l'Occidente per il sostegno militare a Kiev. Grazie a tutti.